C'è amiche, c'è amici, vediamo una meditazione per raggiungere uno stato di estasi. Mettiti in una posizione comoda, con la schiena eretta ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate, e chiudi dolcemente gli occhi. E mentre ascolti il suono della mia voce, e sei con gli occhi chiusi, ti rilassi sempre di più. E lascia che l'aria possa entrare e uscire dai tuoi polmoni, e via via che l'aria entra e esce dai tuoi polmoni, il tuo rilassamento diventa sempre più profondo. E la tua mente respira, respira un raggio di energia che penetra dentro di te, e ti aiuta a vedere chiaro dentro di te e fuori di te. Il tuo respiro diventa calma e regolare, come calma e regolare è il respiro del mare, come calma e regolare è il respiro dell'universo. E via via che tutto questo succede, entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo, e puoi iniziare con la tua mente a scendere una scala. Immagina a te stesso e te stessa di scendere una scala, e ad ogni passo entri sempre più in profondità, vai sempre più in profondità e ti lascia andare sempre di più, ti lascia andare sempre di più, sempre di più. E il tuo respiro diventa sempre più profondo, sempre più profondo. E il tuo battito diventa sempre calma e regolare, come calma e regolare è il respiro del mare, come calma e regolare è il respiro dell'universo. E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, lascia che la tua mente possa diventare leggera, sempre più leggera. E via via che la tua mente diventa più leggera, il tuo corpo diventa più pesante, sempre più pesante. Il tuo corpo diventa più pesante e la tua mente leggera raggiunge uno stato di estasi, uno stato di benessere profondo, l'energia dell'amore entra dentro di te, l'energia dell'amore si diffonde dentro di te, portandoti uno stato di profondo benessere, uno stato di estasi in cui non esistono più conflitti, in cui esiste solo l'amore, l'amore per te stesso e tu puoi vivere un'armonia profonda, un'armonia con te stesso e con te stessa e con tutto ciò che ti circonda. E ovunque tu ti trovi, in qualunque condizione tu possa essere, vivrai sempre questa forte armonia, un'armonia con te stessa e con te stesso, che ti porterà uno stato profondo di estasi. Ecco, adesso sperimenta questo stato di estasi molto profondo. e immergiti completamente, immergiti completamente in questo stato di estasi profondo, molto profondo. Lasciati andare come una nave che fluttua nel mare, lasciati andare come un'aliante che vibra nell'aria, lasciati completamente andare, e sperimenta questo stato di estasi profondo, questo stato di estasi profondo. E via via che sperimenti questo stato di estasi profondo e ti abbandoni sempre di più, stai sempre meglio. E giorno dopo giorno, sotto ogni aspetto, la tua vita migliora. Giorno dopo giorno, sotto ogni aspetto, la tua vita migliora. E adesso, mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, fai un respiro profondo, trattieni l'aria alcuni istanti e poi ispirala fuori. E lasciati completamente andare, piano piano ritorno al qui ed ora, riporta l'attenzione sul respiro, mantenendo questo stato di benessere e di estasi profondo. Riporta l'attenzione sul respiro, fai tre respiri profondi, trattieni l'aria alcuni istanti e poi ispirala fuori e fin in fondo con la bocca. E al termine di questi tre respiri profondi, sentendo uno stato di profondo benessere, di profondo rilassamento, uno stato di estasi, muovi le mani, le braccia e per finire apri dolcemente gli occhi. Questa meditazione puoi farla tutte le volte che vuoi. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!